Il nuovo treno Jets per il trasporto regionale, consegnato da Trenitalia al servizio ferroviario toscano, è pronto a entrare in servizio sulla tratta Lucca-Pisa-Livorno. Il convoglio è stato consegnato alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e del direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia, Orazio Iacono. Con il nuovo Jets diventano 61 i treni della rinnovata flotta regionale, un programma di ammodernamento iniziato nel 2013 che procede ora a ritmo serrato. Abbiamo assunto l'orientamento di andare ad un contratto invece 10 più 5, quindi 15 anni, che comporta la fornitura di ulteriori 750 milioni di treni nuovi. Per la regione il traffico ferroviario regionale resta di centrale importanza anche nel quadro del nodo fiorentino dell'alta velocità, dopo il via libera, la realizzazione del tunnel per i treni ad alta velocità e della stazione Foster riprogettata come nodo di scambio tra bus e treni. Deve vedere la priorità per quanto riguarda la gestione del traffico regionale, quindi dei pentolari, una forte connessione tra il traffico regionale e la possibilità di accesso all'alta velocità e viceversa. L'assessore ha espresso anche la posizione della regione toscana sulla vicenda dell'algoritmo che ha fatto aumentare del 33% in 10 anni il prezzo degli abbonamenti per i treni ad alta velocità. Penso anche che la regione abbia tenuto fede a quelli che erano gli accordi e abbia aggiornato le sue tariffe e il pagamento del suo corrispettivo in maniera tale da non doverla coinvolgere in eventuali ulteriori provvedimenti. Intanto le proteste dei pendolari dell'alta velocità hanno già portato Trenitalia ad abbassare le tariffe. Domande più veloci, istruttori più rapide come anche graduatori e pagamenti. Il sistema per la presentazione delle richieste di finanziamento dei tirocini non curriculari nell'ambito del programma Giovani SID della regione toscana mette definitivamente al bando i moduli compilati a mano, parola d'ordine, efficienza e semplificazione. Infatti a partire da mercoledì 8 febbraio sarà tutto consultabile sulla pagina web Tirocini online. Sempre per quanto riguarda l'assessorato regionale all'istruzione sono state approvate le graduatorie di due avvisi pubblici per la realizzazione di percorsi rivolti ai giovani tra i 16 e 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma sono usciti dal sistema scolastico. Le graduatorie si riferiscono alla prima sperimentazione del sistema duale dell'alternanza scuola-lavoro. Con l'approvazione delle due graduatorie sono stati interamente finanziati i percorsi formativi in tutta la Toscana. 26 progetti nel territorio di Firenze, 12 nella provincia di Lucca, 9 in quella di Pisa, 8 ad Arezzo, 7 a Livorne e Pistoia, 6 a Prato, 5 a Siene e 4 rispettivamente nei territori di Grosseto e Massa Carrara. Questo bando da 10 milioni di euro è cofinanziato dal programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Tutti in sella per la diciannovesima edizione del Giro del Granducato che quest'anno varca i confini della regione. Da 12 marzo al 24 settembre i ciclisti affronteranno nove prove in giro per la Toscana, la Romagna e il Lazio con 5 prove agonistiche e 4 non agonistiche. La Toscana è da sempre terra di ciclismo e questo Giro del Granducato rappresenta un po' l'emblema dei valori che attraverso il ciclismo la Toscana dai tempi di Cino Bartali ha sempre espresso. È tutto sbagliato, è tutto da rifare ma una grande passione, una grande voglia attraverso lo sport di trasmettere ai giovani i migliori valori. La prima prova sarà la Gran Fondo dell'Avia Campagnano di Roma, poi le biciclette passeranno per Volterra, Pomarance, Colle Valdelsa, Castelnuovo Berardenga, Capannuri, Bagno di Romagna, Galluzzo e San Mignato. Un lungo percorso cicloturistico che diventa un vanto fondamentalmente per la Toscana, per i nostri territori. Era doveroso il risalto della Valenza regionale per quello che è l'insieme di una serie di attività agonistiche e cicloturistiche che sono veramente fondamentali per la promozione anche del nostro territorio, per la bellezza delle strade toscane, del nostro paesaggio. Il Giro del Gran Ducato di Toscana renderà omaggio anche ai due campioni del mondo che la nostra regione può vantare. Le Gran Fondo di Capannuri e Pomarance saranno infatti intitolate a Mario Cipollini e Paolo Bettini. Dei piccoli borghi medievali passando dalla via francigena, le spiagge selvagge, le città d'arte. Questo è quello che prediligono i turisti quando scelgono la Toscana per i loro viaggi. Una Toscana che è ovunque bella, come confermano i numeri delle presenze del 2016. 90 milioni i turisti che hanno scelto la nostra regione, attirati anche dall'eco che ha avuto il brand Toscana sulle maggiori testate giornalistiche mondiali. A Milano, Regione Toscana e Toscana Promozione hanno illustrato nella sede dell'Associazione della Stampa Estera i risultati del sito web Toscana Ovunque Bella, creato appositamente per raccontare quella Toscana fatta di piccoli borghi e di storie vere. Un strumento di comunicazione che racconta, non replica, non duplica i tanti siti possibili scontati mezzi, a volte scontati mezzi di comunicazione, ma racconta in maniera originale un tratto distintivo della nostra regione. I borghi, le comunità locali, i comuni. L'obiettivo di Toscana Ovunque Bella è quello di raccogliere racconti che descrivono uno dei comuni della regione e solo a gennaio 2017 il sito ha avuto 184 mila visite e 221 mila visualizzazioni. La nostra regione è un brand riconosciuto a livello mondiale. Germania e Regno Unito sono i mercati più importanti per la Toscana, ma sono gli Stati Uniti che generano tendenza con 4,5 milioni di presenze ufficiali. Siamo convinti che la Toscana continuerà a fare grossi numeri sul turismo culturale, sul turismo balneare, ma abbiamo delle aspettative molto forti su alcune nicchie di motivazione turistica, quindi penso al turismo naturalistico, al turismo ambientale, al trekking. La promozione del turismo in Toscana punta a quello romantico, sportivo, quello che va a scoprire Borghi, l'immersione nella spiritualità della via francigena, ma anche al matrimonio in Toscana, in voga tra le celebrità di tutto il mondo. Un polo unico dell'innovazione, un piano dell'economia circolare della costa, un brand chiamato costa di Toscana, ma anche il potenziamento di strade come la Tirrenica e la Fipilli, dei treni veloci verso l'entroterra, dei porti di Livorno, Piombino e Carrara. Sono questi alcuni degli obiettivi contenuti nel piano strategico per lo sviluppo della costa toscana, approvato dall'apposita commissione regionale istituita 18 mesi fa e illustrato a Palazzo del Pegaso dal presidente Antonio Mazzeo, dal vicepresidente Enrico Cantone e dalla vicepresidente segretaria Alessandra Nardini. Noi abbiamo presentato un piano strategico che parte sostanzialmente da tre grandi priorità, che sono quelle delle infrastrutture, quelle dell'ambiente, quello dello sviluppo economico, del turismo e lo abbiamo fatto tenendo insieme da un lato lavori che già erano in essere e che erano nel programma di mandato del gruppo di maggioranza e dall'altro proponendo in larga pasta e proposte innovative. Il primo passo sarà ora la richiesta alla Giunta regionale di un primo finanziamento di 5 milioni di euro nel 2017, per partire con i primi progetti. Il documento, che guarda in prospettiva al 2025, è stato approvato in commissione con il voto favorevole di tutti i consiglieri PD, l'astenzione di Lega e Forza Italia e il parere contrario di Sì Toscana a Sinistra e Movimento 5 Stelle. La rivoluzione del traffico alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze con l'apertura dei cantieri in via Valfonda per la realizzazione dell'ultimo tratto della tramvia. A spiegare, piantine alla mano, come da fine marzo cambieranno i sensi in una delle zone più congestionate del capoluogo toscano è stato l'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti. Via Valfonda servirà solo per uscire dalla stazione e via Nazionale solo per accedervi. Il traffico delle auto sarà separato in via Santa Caterina all'altezza di Piazza Indipendenza. A sinistra le auto dirette al mercato centrale, a destra quelle dirette alla stazione alla quale si accederà da Piazza Adua e in arrivo ci sono anche nuove porte telematiche. Una sarà messa all'altezza di via Valfa a protezione della corsia preferenziale del trasporto pubblico dove potranno passare anche gli autorizzati, un'altra invece sarà installata dove già oggi c'è una corsia preferenziale però era senza porta telematica in Piazza Stazione all'altezza delle schlette Piazza Stazione all'impianto semaforico. In via Nazionale è previsto il passaggio di taxi, bus, massimo mille al giorno, autorizzati ZTL e ospiti degli hotel. Tutti i percorsi saranno segnalati con una specifica cartellonistica e con un solo obiettivo, evitare il più possibile gli imbuti di traffico alla stazione di Santa Maria Novella. I cantieri saranno invasivi e quindi dobbiamo preservare il trasporto pubblico e chi deve andare effettivamente alla stazione. La nuova viabilità resterà in vigore per un anno fino a febbraio 2018 quando, da programma, i lavori per le nuove linee della tranvia dovranno essere ultimati. Sono passati 300 anni dalla creazione delle prime denominazioni di origine dei vini toscani amati ed apprezzati sempre di più, come dimostrano i dati sulle esportazioni. E proprio i vini toscani sono i protagonisti a Firenze di Buy Wine, il primo dei workshop sul vino inseriti nel piano promozionale della regione toscana, cui seguiranno altri appuntamenti a Dusseldorf in Germania e a Bordeaux in Francia. Durante la due giorni alla fortezza da basso sono stati programmati più di 5.000 incontri fra aziende produttrici e acquirenti. Fra i paesi più interessati ai vini toscani ci sono Stati Uniti, Canada e Cina, seguiti da Corea del Sud, Germania, Brasile e Russia. Nell'ambito di Buy Wine si svolgerà anteprima di Toscana la presentazione congiunta ai mezzi di informazione internazionale di tutte le anteprime dei 16 consorsi toscani di tutela del vino. Bianco di Pitigliano e Sovana, Brunello di Montalcino, Carmignano, Chianti e Chianti Classico, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma, Montecucco, Morellino di Scanzano, Nobile di Montepulciano, Orcia, Valdarno di Sopra, Valdicornia e Vernaccia di San Gimignano. Una terra che visse drammaticamente la Seconda Guerra Mondiale, ma italiana a tutti gli effetti. Così, citando Dante che già nel 1300 riconosceva le estremità geografiche dell'Italia verso Pola, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni ha aperto la seduta solenne dedicata al giorno del ricordo e alle oltre 400.000 persone che nel 1943 furono costrette a lasciare le terre dell'Istria e della Dalmazia e in molte furono gettate vive nelle foibe. La giornata di oggi è una giornata che dal 2004, per legge della Repubblica, deve portare tutti gli italiani a riflettere e a esprimere la solidarietà verso gli esuli, verso coloro che furono infoibati, in qualche modo su una pagina che è una pagina molto triste per la storia d'Italia. Un dramma, quello delle foibe, che come altre pagine tristi della storia deve far mantenere alta la guardia della civiltà. Chi si basa su ideologie razziste e xenofobe in questa fase di crisi, di difficoltà, di miseria, di arretramento sul piano dei diritti, rischia di avere consensi. Noi queste cose credo dobbiamo combatterle riponendo al centro la persona, i diritti dell'uomo, la ragione, le prospettive concrete per risolvere i problemi. Principi che devono crescere nel terreno di una memoria storica condivisa, che per molto tempo ha lasciato il posto a un desolante silenzio. Il silenzio è stato un aspetto certamente discusso e adesso però facciamo luce. Durante la seduta del Consiglio il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, è uscito dall'aula perché il presidente Rossi, a detta del consigliere, avrebbe vergognosamente dato la colpa delle foibe al fascismo. L'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino ha chiuso per sempre i battenti con l'uscita dell'ultimo paziente dalla villa ambrogiana che lo ha finora ospitato. Ora che la lunga vicenda della chiusura è giunta a conclusione, hanno detto l'assessore alla salute della regione toscana Stefania Saccardi e il garante regionale dei detenuti Franco Corleone, in un incontro per fare il punto sul futuro della struttura di Montelupo, il programma regionale di superamento dell'OPG prevede la realizzazione di una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, da 40 posti a Volterra. Un'altra è prevista a Empoli, mentre sono in tutto 48 i posti già disponibili dislocati in sei strutture in Toscana. In questo modo cerchiamo il più possibile di perseguire l'obiettivo del reinserimento e del recupero delle persone perché a questo deve servire non solo un carcere per persone con problemi psichici ma il carcere in generale deve tendere, come dice la Costituzione, alla rieducazione e al reinserimento del reo. Solo alla fine del 2014 all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo c'erano 110 persone. La chiusura ora è un passo avanti nella riforma che ha previsto la fine del manicomio criminale in Toscana. La riforma adesso non ha più il peso dell'OPG aperto e può manifestare tutta la sua potenzialità e questa è una rivoluzione paragonabile, forse superiore alla legge Basaglia, la 180. Ora si apre la partita per il futuro della maestosa villa ambrogiana di Montelupo Fiorentino che potrebbe tornare ad uso pubblico. Ma a me piacerebbe molto che lì si facesse formazione, lo diceva anche l'assessore Saccardi, mi piacerebbe molto che quel complesso seguitasse in qualche modo questa tradizione legata alla follia declinandola dal punto di vista formativo e quindi facendone un centro di eccellenza sulla salute mentale. Il gruppo di lavoro istituito per definire la destinazione della struttura è già al lavoro.